Direttore, questa ondata forte di Covid in Campania non solo era un po' inaspettata durante il forte caldo di luglio. Qual è questo bilancio che possiamo trarre in queste settimane? Un bilancio è che un forte aumento dei casi legato alla forte diffusione, quindi di capacità diffusiva di questa variante, la variante 4, Omicron 4 e 5. Chiaramente c'è stata un'impendata dei casi soprattutto nell'ultima settimana con incremento degli accessi ai pronto soccorso, quindi una maggior pressione sul sistema sanitario con un aumento successivo dei ricoveri. Qual è la situazione attuale al Cotugno, l'ospedale sin dall'inizio in prima linea contro il Covid? A Cotugno la situazione che abbiamo, quindi le parti di terapia di degenza ordinaria e di subintensiva avviene oltre il 90%, una terapia intensiva con un basso numero di ricoveri, attualmente ne teniamo 3 ricoverati, 3 su 8. Però penso che a questo punto dell'epidemia non dobbiamo tenere più soltanto presente il Cotugno, perché dobbiamo considerare quali sono le caratteristiche attuali dell'epidemia, che non è soltanto legata a casi Covid in sé per sé, ma anche a soggetti che hanno altre patologie con una positiva al Covid, soggetti che hanno necessità di essere assistiti per la loro patologia di base, una patologia cardiologica, nefrologica, una patologia traumatica, che al momento del ricovero si viene a diagnosticare la positività al Covid, e sottolineo positività, quindi infezione e non chiaramente una malattia da Covid, e quindi questi soggetti è opportuno, come la disposizione ultima regionale, che siano assistiti nelle parti ordinari dove vi sono presenti delle stanze con dei posti Covid dedicati. Attualmente abbiamo due soggetti ricoverati in cardiologia alla Monaldi, una in ortopedia al CTO. Quindi, diciamo, dalla direzione dell'azienda ospedale De Colli si predica anche una certa calma, perché molti di questi positivi vengono, ma per altre patologie. No, calma no, iniziamo a presentare quali sono le effettive necessità di quei soggetti, quindi per poter calibrare il sistema sanitario a dare una risposta ottimale, e non fare come è successo purtroppo in passato, che i soggetti che hanno altre patologie sono dovuti restare a casa, o aspettare per giorni o settimane di poter essere assistiti, perché c'era una grossa pressione, una grossa attenzione soltanto sulla patologia Covid, e questo è quello che volevo sottolineare. Quanto riguarda i ricoveri, qual è l'identikit? Sono non vaccinati, vaccinati da tanto tempo, tutti anziani con patologie? Diciamo che non vaccinati oramai sono pochi. La maggior parte non vaccinati, insomma, nel corso delle varie fasi dell'epidemia, il Covid lo hanno preso. Ci sono soggetti che hanno soltanto due dosi, alcuni che hanno tre dosi. E' chiaro che la copertura vaccinale, lo sappiamo, è legata chiaramente alla presenza di anticorpi. Questi anticorpi non è che sono sempre, cioè tendono a decadere nel nostro organismo, non sono sempre presenti, e quindi è importante la distanza temporale, chiaramente, con l'ultimo contatto col virus o con l'ultima vaccinazione effettuata.